Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justin Epple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come Justy Rosati e oggi voglio presentarvi un gioco dalle immagini fantastiche. Icomania è un gioco freeware sviluppato da Software House Games for Friends che promette di farvi passare ore e ore di svago purché decidiate di eliminare le fastidiosissime pubblicità. Non sono contro la metodologia del freeware ma se il gioco diventa ingiocabile a causa della pubblicità stessa allora solitamente mi stufo e anche se ne varrebbe la pena non acquisto. Fortunatamente però per Icomania non ho saputo resistere perché è troppo divertente. Il gioco consiste nella semplice operazione di riconoscimento delle figure proposte, disegnate in stile cartoniano e con solo alcuni particolari presenti. Potremmo dover indovinare personaggi famosi, paesi, film e telefilm. Insomma spazieremo in tantissimi campi ed i livelli di gioco crescenti renderanno sempre più complesso trovare una soluzione. Per comporre la risposta che ci serve avremo un insieme di lettere da utilizzare, nelle quali però sono inserite delle lettere extra, tanto per confonderci un pochino di più le idee. Avremo a disposizione due tipi di aiuti, l'eliminazione di una lettera superflua o il posizionamento di una lettera nella risposta. Entrambi utili, ma mai come l'aiuto dal pubblico. Sì avete capito bene, parlo proprio dell'aiuto che potrà arrivarvi dai vari social network e quindi dai vostri amici e followers. Potremo di fatti postare l'icona che non riusciamo a riconoscere e ricevere risposte da parte di tutti così da avanzare all'icona successiva. La modalità di gioco è una sola ma è estremamente divertente e ben strutturata. Come dicevo le insistenti pubblicità rovinano il clima immersivo e quindi se vi fidate spendete pure l'euro e 59 che il dev chiede. Indovinerete al primo colpo senza bisogno di aiuti. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod. Di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple. Vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast. Usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple. Siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes. Ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi. Insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.